il Napoli vola ai quarti di finale di Champions League il Napoli, i partenopei guidati da Luciano Spalletti e la terza squadra italiana che vola ai quarti di finale di Champions League tre italiani ai quarti di finale clamorose il Napoli dopo tanti anni, non so da quanti anni non tornava più ai quarti di finale, è una roba assurda ancora un altro record che appunto corona questo cammino spettacolare del Napoli Ozyman, giocatore pazzese io non lo so, c'è da un altro pianeta stavo sentendo quanto vale adesso Ozyman vale tipo una roba come 150 milioni di euro mi pare pure giusto segna fracca e decolla a chiunque oggi il Napoli asfalta il Francoforte 3-0, 3-0 con i due gol dell'andata sono cinque reti fatte e zero subiti in un ottavo di finale raga solo applausi solo applausi e da chinarsi il capo veramente da inchino proprio bisogna inchinarsi a questo Napoli veramente è pazzesco prima di tutto ciò ragazzi mi raccomando un mi piace mi raccomando è gratis non qualsiasi niente bisogna dare il tasto rosso iscriviti perché pure quello è gratis lascia un mi piace e attiva la campana per rimanere già tutta quanta settimana vi ricordo qua sopra le schede a fine video trovate la live reaction sì ho fatto la live reaction di Napoli Francoforte recuperatela e andatela a vedere e niente vi ricordo di seguirmi anche su Instagram molto importante e TikTok e la piattaforma di Oliola vi lascio tutti i social sotto in descrizione e vi ricordo questa sera più tardi uscirà anche l'intervista di Spalletti e Ozyman di Spalletti e compagni e poi stasera sempre sul tardi andrò in live sulla piattaforma Oliola parliamo della partita quello che è stato stasera stasera Napoli che ha iniziato leggermente un po' è stato un continuo crescendo perché ha iniziato un po' piano comunque Napoli avendo il vantaggio di aver vinto due azzate in casa diciamo non ha osato spingersi troppo almeno all'inizio il Francoforte all'altro canto invece mi aspettavo che vedendo questo Napoli che iniziava un pochettino a rilento il Francoforte iniziasse magari a impensierire un pochettino il Napoli ma neanche se manco si è avvicinato penso che Meret torna a casa con i guanti puliti cioè domenica Napoli giocherà domenica alle 3 contro contro a Torino contro il Torino Meret indosserà i stessi guanti di questa partita perché ce l'ha puliti non c'è manco una chiazzata verde niente puliti limpidi come se sono stati messi in lavatrice veramente zero tiri in porta no forse un tiro l'hanno fatto ma poca roba sì un tiro in porta l'hanno fatto me lo ricordavo un tiro centrale era non hai impezzerito Meret comunque passa in vantaggio Napoli al 47esimo quindi proprio l'ultimo allo scadere del primo tempo arriva il gol in scivolata di Victor Rosimann no non era quello era il secondo gol arriva il gol di Victor Rosimann gol del dell'1 a 0 al 47esimo palla di Politano che serve perfettamente Rosimann e Rosimann non sbaglia gol dell'1 a 0 un attaccante imprescindibile questo Napoli ragazzi Napoli Galattico questo Napoli Galattico con questo con quest'alieno lì in attacco veramente assurdo segna il gol dell'1 a 0 che già lì ha detto il Napoli ormai ha chiuso la partita e poi è arrivato pure il gol del 2 a 0 al 53esimo sempre Victor Rosimann che tra l'altro si fa pure male cade nel 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 segnare il gol in scivolata cade con il braccio gli rimane sotto il corpo quindi rischia pure una slogatura ma non lo so si è fasciato il polso e ha continuato a giocare poi una certa dopo è uscito per per al posto di Simeone però patrita pazzesca di Rosimann a parte i gol ha fatto una partita mostruosa anche a livello di di gestione palla e aiuto della squadra Lobotka è un altro dei migliori di questa partita insieme a Kim io vi faccio proprio l'asse Kim Lobotka Osimann l'asse quella centrale oggi sono stati i tre i tre tenori della difesa dell'attacco del centrocampo i tre tasselli centrali sono stati il perno la colonna vertebrale verticale del Napoli è stata perfetta oggi solidi compatti e poi hanno fatto anche molto male questo Napoli e poi arriva anche il gol del 3 a 0 lo segna Piotr e Zielischi questa volta non sbaglia rigore ma lo segna subisce lui il fallo giustamente dal dischetto si presenta proprio lui diciamo che nel Napoli non c'è un vero e proprio rigorista una volta ha tirato sulla carta i rigoristi sono Politano dovrebbe essere il rigorista numero uno poi c'è sta Zielischi e poi c'è sta Nocca Varascheglia diciamo che i loro tre si li alternano però Politano già era uscito quindi non è serice Politano in campo ricordo o lo tirava Kvara o lo ha tirato Zielischi in questo caso l'ha tirato Zielischi e segna il gol del 3 a 0 il gol che chiude corona questa partita con 5 gol fatti e 0 subiti contro una squadra comunque importante come il Francoforte che sono qui i sesti stanno andando un pochettino in calo questa stagione in campionato però comunque è una squadra che l'anno scorso ha vinto l'Europa League e vanno fatti i complimenti a sto Napoli perché ragazzi non guarda in faccia nessuno segna a chiunque non ha paura di far male cioè non ha paura di osare perché poi il Napoli nel secondo tempo ha osato e poi nel finale ovviamente Spalletti fa anche i cambi per risparmiare ovviamente l'energia toglie tutti quanti i titolari i titolari diciamo più importanti quindi Kim per Juan Jesus Simeone per Osiman Kvara al posto di Kvara è entrato Elmas al posto di insomma tutti esce pure Zambanguissa ha fatto anche lui una grande partita esce pure Kim esce Pulida insomma escono tutti quanti i titolari e finisce comunque 3 a 0 per il Napoli hanno solamente fatti i complimenti a questo Napoli che la squadra se non sbaglio è una delle difese migliori in Europa una delle difese più forti d'Europa solamente dopo il Barcellona che il Barcellona è la prima difesa in Europa dopo se non sbaglio c'è il Napoli chapeau complimenti a tutti quanti maggiormente ovviamente a Osiman perché è stato decisivo se non segnava Osiman questa partita si poteva complicare forse però comunque Osiman quando si è fatto trovare cioè quando gli è arrivato il pallone si è fatto due volte su due e ha purgato il Francoforte e finisce 3 a 0 con le statistiche che dicono vi dico proprio 12 tiri da parte il Napoli 8 nello specchio 3 gol il Francoforte fa 8 tiri solamente un tiro nello specchio una mozzarella centrale per Meret e il 60% di possesso palla il Napoli che fa possesso palla dopo ovviamente sul 3 a 0 si mette a fare possesso palla giustamente per risparmiare energie questo era l'analisi di Napoli Francoforte 3 a 0 vi ricordo qua sopra nelle schede trovate la live reaction andate a recuperare e niente ragazzi è qui tutto e noi come al solito vediamo un prossimo bene ragazzi vi aspetto dopo per l'intervista di Spalletti e compagni e noi come al solito vediamo un prossimo video bene ragazzi dai dai grande Napoli complimenti grande Luciano grande Luciano e Osiman sei un campione sei un campione ciao vamos ciao